Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Dopo questa lunghissima assenza estiva dovuta a impegni lavorativi e impegni universitari, torno con una seconda stagione. Come forse noterete dal riflesso sull'Atlante storico-geografico, ho comprato qualcosa di assolutamente innovativo, una luce. Credo ancora di non aver ben chiaro come si illumini uno spazio, quindi se sembro Barbara d'Urso all'interno degli studi di pomeriggio 5, mi dispiace davvero tanto. Comunque, bando alle ciance e cominciamo parlando della Liberia. La Liberia, uno dei tanti stati del continente africano, nacque in America. Sì, lo so perfettamente che questa frase apparentemente non ha senso, ma se resterete un attimo con me capirete il perché delle mie parole. Ci troviamo in America, precisamente a Washington, dove nel 1816 Ashmun Jehudi, professore di teologia profondamente contrario alla schiavitù, fondò l'American Colonization Society. Con lo scopo di far tornare in Africa gli ex schiavi afroamericani, ora liberati sì dalla schiavitù, ma cui nessuno voleva dare cittadinanza americana. Il primo gruppo di ex schiavi approdò sulla costa occidentale del continente africano e lì nel 1822, con l'appoggio dell'American Colonization Society, fondò una colonia di uomini liberi di colore, l'attuale Liberia. Ovviamente quella porzione di costa non era una terra vergine, non era una terra deserta. Lì, infatti, vivevano numerosissimi gruppi indigeni, divisi in altrettanti gruppi tribali, che non resero la vita facile agli ex schiavi. I gruppi tribali, ignorando completamente le buone intenzioni degli ex schiavi afroamericani, cominciarono a sferrare loro un attacco dietro l'altro, nel tentativo di scacciarli. Tuttavia, ad avere la meglio, furono proprio gli ex schiavi afroamericani. E i coloni erano riusciti a vincere perché l'American Colonization Society dava loro le armi per combattere. E fu così che nel 1847, l'allora governatore di quelle zone, Joseph Roberts, dietro ordine dell'American Colonization Society, dichiarò l'indipendenza della Liberia, instaurò una repubblica, emanò una costituzione e dichiarò come capitale la città di Monrovia, città così chiamata in onore del presidente americano Monroe. Ora c'è da chiedersi, ma gli ex schiavi, i coloni, si sentivano africani o si sentivano americani? Del tutto americani. Tutto era stato costruito su un modello americano e gli stessi coloni percepivano se stessi e venivano percepiti dagli altri come americani. Il nuovo Stato, poi, poteva godere del massiccio appoggio in campo economico dato dall'America. Ad esempio, a partire dal 1906, una delle più potenti società americane, la Firestone, ebbe il monopolio del cauciu, ossia una delle principali risorse della Liberia. Poi, dalla fine del 1800 in avanti, praticamente a dominare fu il partito dei veri liberali, appunto, espressione di quell'oligarchia afroamericana. Quindi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico, la Liberia era assolutamente vincolata, assolutamente legata agli Stati Uniti d'America. Ovviamente, la storia della Liberia non termina qui e le vicende, spesso tragiche, che la vedono protagonista, arrivano sino ai giorni nostri. Ma in questo breve video volevo solo accennare alla sua nascita, perché è stato, secondo me, un chiarissimo esempio di dominio che indossa i panni della libertà. Mi spiego meglio. Gli schiavi afroamericani volevano l'indipendenza, volevano la libertà, e la ottennero. Ma il prezzo della loro libertà la pagarono i gruppi indigeni, i gruppi tribali stanziati nell'attuale Liberia, che di fatto si videro conquistati. Ma i veri vincitori a monte sono gli Stati Uniti d'America, perché elegano a sé un territorio ricchissimo e abbastanza vasto. Gli indigeni, ad esempio, ottennero il diritto di voto solo nel 1945, cioè un secolo dopo la dichiarazione di indipendenza della Liberia. E di fatto i nuovi coloni e le generazioni successive riprodussero il sistema di dominio di cui loro erano stati vittime. Sfruttamento, schiavitù, maltrattamenti, lavori forzati. Chi era schiavo ora di fatto è padrone. Nel 1930 addirittura prese parola alla Società delle Nazioni Unite, che accusò pesantemente gli americani liberiani, i grandi proprietari terrieri di praticare la schiavitù e il lavoro forzato nei confronti dei gruppi indigeni. Ed ecco perché possiamo descrivere la Liberia tra 1800 e 1900 come una piccola America in continente africano.